Buonasera a tutti da Andrea Cartotto. Parliamo questa sera di libri ed audiolibri. Internet infatti, tramite le risorse da me selezionate, scelte tra le principali a disposizione, ci consente di poter scaricare in maniera gratuita, soprattutto legale e sicura, una serie di ottimi testi che facciano parte o di collane di grandi classici, dunque preziose anche nel contesto scolastico e vero e proprio, o sani libri di lettura che vanno bene in realtà per qualunque fascia di età. Tra le risorse selezionate comincio a segnalare la prima, liberliber.it, questo è il sito di riferimento. Vedete che l'ingresso è molto semplice, clicchiamo sul pulsante entra, essendo risorse web, dunque siti internet, va da sé, ma ho piacere di ricordare che sono risorse consultabili da personal computer, da smartphone e da tablet, addirittura con un qualsiasi sistema operativo perché è sufficiente appunto un browser. Liberliber è uno storico progetto, guardate molte delle risorse, quasi tutte in verità che io sto segnalando nei miei videocorsi, nella mia normale attività didattica, non nascono ora, ma a maggior ragione ora e tempo vengano debitamente conosciute. Vediamo che abbiamo in Liberliber la possibilità di ricercare per autore, per libro o per audiolibri. Io vado per esempio a posizionare il puntatore del mouse su autori, illumino le voci dalla I alla Q, poi vado a scegliere autori P. Sotto la lettera P trovo grandi nomi della nostra letteratura e vado ad esempio a cliccare Pirandello. Lo scorro piano piano, come vediamo, ed eccolo qua, Pirandello Luigi. breve biografia dell'autore con un suo descrittivo, vado a scorrere ed ecco i libri, con anche talvolta appunto le edizioni. Allora, Fumatia Pascal, vedete addirittura che è già qui in doppia versione, audio e testo. Vado a cliccare sulla giara, un clic, l'incipit del libro, quindi un estratto che ce lo va un pochino a raccontare, in effetti è proprio la parte iniziale del testo, ed ecco i pulsanti per il libero scaricamento. Io consiglio il formato PDF, un classico. Gli amanti dei libri e della lettura digitale conosceranno sicuramente anche il formato EPUB, che è un classico formato utilizzato per programmi di lettura digitale e non solo. Quindi, liberliber.it, prima risorsa a nostra disposizione. Passiamo ora a audiolibri.org, sito di riferimento, segnalato anche dall'amico Albano Battistella sulla community e pagina educativo-didattica presente su Facebook, Zorin OS Education Italia. Io qui posso effettuare la ricerca mediante Esplora la libreria o mediante Cerca per autore. Io faccio un clic, digito nel mio campo di ricerca, sempre Pirandello ad esempio, premo Invio sulla tastiera ed ecco le risposte alla mia interrogazione, alla mia ricerca. Vado ad esempio a prendere, vediamo un pochettino. Scuola di saggezza, novella di Pirandello. Clic sul tasto Leggi tutto. E qui abbiamo a disposizione l'audiolibro, in questo caso in forma di video YouTube. Quindi è scenario video, ma di fatto poi posso ascoltare l'audio con un clic su play. Risorsa interessante. Passiamo ad una terza risorsa, sito di riferimento ebook ebookgratis.net. Questa risorsa la suggerisco anche per conoscere ad esempio testi o libri di narrativa non così classici e scontati, anche qualche autore magari meno conosciuto, ma con contenuti di interesse. Io ho la possibilità di ricercare mediante questa riga in alto a destra, ricerca personalizzata, oppure posso cliccare su libri gratis. Ho diverse copertine già qui a disposizione, vari generi a mia disposizione, o differenti numeri in fondo per passare da una selezione di libri di testa ad un'altra selezione. Passiamo dalla narrativa ai saggi, ai romanzi e così via. Risorsa interessante. Prendiamo ad esempio un cosmonauta. Un clic. Ecco il mio libro, la scheda che me lo descrive, i formati disponibili. Questi sono due classici, ad esempio, formati per il libro elettronico, ePub e Mobi. Per poterlo scaricare, pulsante di scaricamento. Questo è il formato Mobi, un formato ad esempio letto anche da Kindle, Kindle oggetto, quindi eBook Reader o Kindle applicazione. E poi il formato ePub. Se si utilizza su smartphone o tablet, consiglio da Play Store o App Store di avere una opportuna applicazione che legga ePub, un ePub Reader. Per quanto riguarda il personal computer, possiamo utilizzare una ottima e storica applicazione open source dal nome Calibri o Calibri, in funzione della nostra pronuncia. Quindi, altra risorsa segnalata. Ultima risorsa, storica anch'essa, per libri di testo o libri di grandi autori della letteratura, in lingua italiana e non solo. Quindi, ottima ricerca a livello internazionale, il Project Gutenberg. Project Gutenberg, sito di riferimento gutenberg.org. Possibilità di ricerca anche solo in alto a sinistra, dalla riga che vediamo. Questa è una ricerca che io avevo effettuato in precedenza, Shakespeare. Io faccio un click, vado a premere invio sulla tastiera per assecondare la ricerca, ed ecco ad esempio Romeo and Juliet. Quindi il testo in lingua, un click, e possibilità tra le diverse offerte di lettura solo online. Scaricamento del formato ePub, che ho nominato prima, con immagini. Scaricamento del formato ePub, che ho nominato prima, in questo caso alleggerito senza immagini. Idem per il formato Kindle. Naturalmente, così come ho cercato Shakespeare, vado a ricercare anche un altro grande autore italiano, quale Luigi Pirandello, ed abbiamo un altrettanto classico suo testo, sei personaggi in cerca d'autore. Come vedete, nuovamente, possibilità di lettura online, possibilità di scaricamento ePub, in questo caso, perché ogni testo è a sé, diciamo depurato dalle immagini per motivi di leggerezza, o perché il libro stesso non contiene illustrazioni. A destra, al bisogno, pulsanti diretti per salvare questo testo su un cloud personale Dropbox, salvare questo testo su un cloud personale Google Drive, salvare questo testo su un cloud personale OneDrive. Mai come in questo momento consiglio, ecco, la lettura. La lettura come un momento anche di stacco dal contesto in qualche maniera nel quale ci troviamo, e senz'altro lo consiglio ai nostri ragazzi come una opportunità, mediante il libro, di far convivere due mondi, che sono il mondo cartaceo che non è affatto distante da quello tecnologico, ed il mondo digitale che ci permette di rendere un libro di testo, un grande classico, veramente eterno. Buona lettura e buona ricerca da Andrea Cartotto.